no stavolta minchia, quanto ti ho solto per degli esperienze? minchia, a me non ho 30 ci sto due anni a fare solo 10 punti di esperienze minchia, minchia, minchia mi sono fatto di nuovo la bosta mi ho sparato tutto il caricatore, non è morto poi allora stavo per tirare fuori la pistola però dopo 2 secondi è morto è morto dopo, bastardi si, che c***o è che la gara si salta qui in alto, minchia adesso qua gli smaravo, se qua saltava va bene se stai giocando a Wii Fort o qualcosa di altro ma non in me dal loro fogno aiutatare ecco, tirati regatti per nulla ho fatto una crit, p***a una bolla c***o ma non c***o è peccato a pure Nooo ma che c***o vuol dire una bella voce Ecco Che palle Che palle Che palle C***o hai fatto La parte che riesce a giocare bene ishan Tappar No Stato non muore no no non i per g i una volta che riesci a giocare bene a 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 no 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 come ho fatto no no stavo saltando così alla babbo mi è spinto un unito davanti e schiacciato r3 per il coltello lo ha coltellato al volo è stato bellissimo ho manco guardato giallo davanti a 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